Un buongiorno a tutti, sono Francesco Salerno, vengo da Spinazzola, BAT, sesta provincia della regione Puglia, sono consulente nei servizi alle imprese e mi occupo in particolar modo degli illeciti bancari. Sono qui al mio secondo convegno con i consulenti aziendali d'Italia e ringrazio il professor Simone Brancozzi per aver messo su questa splendida organizzazione, questa piattaforma di professionisti e dandoci la possibilità di lavorare in team e di dare ognuno di noi un supporto alla risoluzione della crisi, perché solo così, lavorando in squadra, possiamo, dando la nostra professionalità e usufruendo quella dei nostri colleghi, possiamo in effetti, lavorando in sinergia, risolvere quelle problematiche che da soli, chiusi nei propri studi, non potevamo fare. Grazie Simone, spero che questa tua mission, questa tua vision più che altro possa avere un lungo proseguio, dandoci la possibilità a tutti di lavorare con etica, professionalità e soprattutto con amore. Grazie.